Scontro violento poco dopo le 17 di oggi lungo la strada provinciale 37 Caltagirone a Mirabella in Baccari tra un Audi A4 e una Jeep. Il bilancio è di due feriti, per fortuna apparentemente allievi, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 delle postazioni di Mirabella e Caltagirone e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Gravina per le cure del caso. L'impatto è avvenuto in prossimità dello svincolo Fontana-Pietra a distanza di pochi metri dalla rotatoria d'innesto con la strada statale 683 Libertinia, variante di Caltagirone, all'ingresso della provinciale la cui carreggiata è ristretta rispetto alla strada a scorrimento veloce. I rilievi del sinistro sono stati compiuti dagli agenti della polizia locale di Caltagirone che hanno ricostruito l'esatta dinamica. Il traffico ha subito rallentamenti sui due rispettivi sensi di marcia, ovvero sia in direzione Mirabella sia in direzione Caltagirone, previa del fatto che i due veicoli avevano occupato interamente la carreggiata. Grazie Grazie